Ingressi scaglionati con almeno due turni, possibilmente facendo entrare a un'ora di distanza gli studenti di scuole diverse, ma della stessa zona. Trieste potrebbe organizzarsi così per la ripresa in presenza il 7 gennaio. Nell'incontro di questo pomeriggio, coordinato dal prefetto Valenti, che secondo il nuovo DPCM avrà la responsabilità sul trasporto, così come tutti i colleghi d'Italia, si sono confrontati due assessorati competenti della regione, Trieste Trasporti e dirigenti scolastici. La richiesta dell'azienda è di tre turni con ingressi tra le 8 e le 10, difficile da soddisfare perché le scuole hanno problemi di organico e ci sarebbero criticità nel compilare orari che consentono il 75% degli alunni in presenza come richiesto dal decreto del Presidente Conte. La regione rispetterà il 50% di capienza dei mezzi esortando chi non va a scuola a non utilizzarli durante le fasce orarie più critiche, tra le 8 e le 9 e tra le 13 e le 14.